Stadio di Piosina è un avvenimento al quale non si poteva mancare, ne parliamo con Fabio Castellani ma facciamo un po' anche di storia tecnica di questa giornata. Quattro erano le squadre a partecipare e alla fine ha vinto la squadra di casa del Piosina. Non edizione di un trofeo assolutamente da portare avanti al di là di dove si giochi, no Fabio? Sì, una bella iniziativa per ricordare un amico che non c'è più, questa è la non edizione, quest'anno siamo stati ospitati dalla società di Piosina che ha messo a disposizione la struttura. C'è stata la partecipazione di queste quattro squadre, Lama, Mary Brothers, Cosmos e Piosina che insieme hanno costruito una bella giornata per ricordare un amico. Per quanto riguarda la situazione è un evento che ripetiamo si rinnova ogni nove anni, al di là del gesto sportivo poi ne parleremo anche con altre persone, c'è una conviviale importante ogni fine torneo che soprattutto lascia qualche buon soldo anche a favore di persone sfortunate. Sì, in collaborazione praticamente con la società rionale di Sampio viene organizzata la sera praticamente del torneo una cena che praticamente il ricavato di questa cena viene devoluto in beneficenza. Negli anni passati veniva mandato in Peru presso Don Giovanni, quest'anno viene dato al centro d'accoglienza qui di Giove di Piosina. Siamo partiti con l'inquadratura dalle più piccole e andiamo con Sauro e Silvana che penso debbono solo dire grazie anche al termine di questo altro bel impegno sportivo durato un bel pomeriggio caldo e che poi avrà comunque la chiusura in serata. Un ricordo sempre con il cuore da parte di tanti amici per Davide. Sì, noi come tutti gli anni, oramai sono nove anni, dobbiamo ringraziare questi ragazzi che organizzano questo torneo per ricordare il loro amico. Noi come genitori siamo veramente orgogliosi di questo, di questi amici. Li ringraziamo tutti e ringraziamo anche la società rionale che ci ospita per la cena di questa sera e tutte le persone che ci lavorano. Quindi grazie a tutti e ricordiamo il nostro Davide. Che la cosa sicuramente importante è ricordare Davide e che lo facciano, signor Sauro, tanti e tanti amici. Ogni anno mai saltato, questo è importante. Sì, io innanzitutto ringrazio i presenti, tutti coloro che hanno partecipato a quest'anno e hanno reso questa iniziativa così bella. Ringrazio tutti coloro che negli anni hanno partecipato e che forse quest'anno alcuni di loro non sono presenti per impegni, ma che hanno contribuito negli anni a far sì che il nostro Davide rimanga vivo, anche se per un lasso di tempo limitato. Però è questo che conta perché in fondo erano amici. Grazie per la visione. Grazie.